12 giugno 2015 Lorenzo studierà da ora in poi per diventare santo, laico Sara sognirà colori, Giorgiana troverà il suo Orlando Paolo non dimenticherà mai la giornata di ieri Sofia scoprirà di essere forte i colori solleverà le macerie Emilio conoscerà se stesso Giovanni smetterà di fumare Alessandro viaggerà verso paesi sconosciuti Mario Carlo dipingerà nuove esperienze